Tezze sul Brenta, tutto pronto per la festa delle associazioni in programma il prossimo fine settimana 21 e 22 settembre agli impianti sportivi di Stroppari, che anche quest'anno avrà finalità solidali. Nello specifico la sera di sabato ci sarà una cena per raccogliere fondi per la Proloco di Enego, per ripristinare i danni provocati ai parchi pubblici della tempesta Vaia. Domenica dalle 8 alle 18, associazioni Tedarote in mostra illustreranno il loro lavoro e le loro attività, ampio spazio ai più piccoli con giochi e laboratori ad hoc. Grazie a tutti.